bella ragazzi siamo su brawl stars in un nuovissimo video oggi e si lo so ancora raggiungere le 350 coppe per sbloccare l'evento con biglietti ma io ce l'ho e vi direste ma dark sei un hacker? no non sono un hacker io sono arrivato alle 350 coppe però poi sono sceso per sbaglio perchè faccio un pochino schifo su brawl stars quindi oggi andiamo a fare raid la nuova modalità della boss fight no ragazzi io ve lo giuro ragazzi io ve lo giuro stamattina ho visto frank e stecca perchè adesso c'è pam? cosa c'entra pam? va bene facciamo finta di niente eh io cercherò di fare qualcosa di bello quindi andiamo a prendere qualche personaggio andiamo a vedere i loro attacchi poco abbastanza tanto poco 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 un bel po un bel po poco oh oh penny potrebbe andare bene io ci vediamo mortis non spera l'ha superata no quindi speriamo che penny mi dia qualcosa per vincere perchè raga e lo giuro io non voglio sprecare il ticket oh siamo in una squadra proprio pro Ma come? Ma il mio amico è già morto Ma allora si vede che è proprio intelligente Il mio amico, ma porca miseria Sconfiggiamo il boss, raga Anche se è abbastanza difficile Ci leggo per cavolo allo strato Ragazzi ve lo giuro Penny è un brawler strano Soprattutto per il fatto che Spoon una monete Ogni suo sparo Quindi raga mi sa che dovrò fare Il miro automatic Perché io Penny Non la so usare bene Un attimo che mi curo Che raga curarti Curarvi Ragazzi in queste partite Dovete essere più da camperatori Che da attaccatori Grazie bro No raga Lui mi ha difeso La medaglia dopo No non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire come alleato Il primo Aia Statemi lontani Statemi lontani Brutti cosi No Lancia il mortaio Fai qualcosa No Aiuto Che aiuta Non to via con me Non to via con me È il primo Ma aiuti per favore Grazie Il primo Grazie Tu si che sei un amico Guarda Chiamalo qua Eh va bene Non è più distratto Mi lancio la torretta L'ho addosso Le l'ho lanciata Così va più male Eh però È morta subito Lanciagli le monete Lanciagli le monete No No poca vita Sono solo io No non è vero C'è il mio amico Devo sopravvivere Aiuto Vita 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 Mi serve Vita Mi serve Vita Porca misera Ok 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 sono vivo Sono vivo Sono vivo Eh c'è Que Eh va bene Non manca di qualsiasi modo Eh va bene Ho perso la mia In 4 secondi e mezzo Allora ragazzi Dobbiamo vivere Ragà Perché non posso Supportare Perdere di nuovo Ok Non ce la stiamo cavando Abbastanza male Ce la stiamo cavando Abbastanza bene Credo Non lo so ragazzi Dobbiamo decidere dopo Stiamo Ragazzi questa No 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 è così veloci No è così veloci No 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 Penny 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 Ma che Eh vabbè Mi hanno ucciso Ma raga Io devo equipaggiarmi Soprattutto un bullo Perché raga I bullo Sono proprio Soprattutto quando L'ho super caricata Ok Che sono vivi I miei amici Ma scusamente Che rispondo Io Stiamo proprio a posto Freschi Freschi Come il mango Il mango E approfittiamo Nei che siamo immuni Per attaccarlo Eh Sto stavagando Come faccio Come fai No Le ho No Forza Penny Penny Per favore Penny Che sei morto Una volta Non oso Ma ho fatto Vivere Il mio alleato Che io Non è che Sono tanto forte Ma abbastanza Lo sono Ma ragazzi Poi come Come lo so Aspetta un attimo Aspetta un attimo Raga Ok Eccomi qua Sono ancora in vita Non so come Ma siamo arrivati Al 50% Oh mio dio Sono solo Non voglio morire Vabbè Vabbè Mi hanno sciottato Sono morto Dai 47% Ci credo E dai Ma trotazza Dai Ma porca Trota Dai Invitiamo Leon Trota Non la scetterà Mai Sicuramente Ecco appunto Andiamo Sulla Montievole E vediamo Se c'è La modalità Ride Ride No C'è solamente Il football Allora ragazzi Per questo episodio Ci salutiamo qui Abbiamo provato La nuova modalità Ovvero Ride Ovvero Le boss fight Ditemi voi Che brawler Devo usare E io lo userò Tipo un Bull Nel primo Però se sarete Molto Molto Cattivi Sicuramente Mi farete Usare Una shell Che io Non so Usare Assolutamente Non ditemi Brawler Che io Tipo Non ho E non ditemi Soprattutto Di shoppare Però andiamo a vedere Un attimo Nel negozio Se hanno Cambiato di nuovo La cosa No C'è ancora Pam Ragazzi Non ditemi Brawler Che non ho Tipo Piper O Tara O Leon No Leon è impossibile Trovarlo Spagno Moje Adorabile E noi ci Zauziamo Ciao Ciao Ci Ciao Ciao